Nel mio programma politico amministrativo, in quello di Taranto senza Ilva, c'è la valorizzazione assoluta della risorsa mare, una risorsa che è stata completamente calpestata dall'amministrazione Melucci. Mi trovo nel Borgo Antico di Taranto, precisamente sul lungomare Garibaldi, guardate che fantastico scenario con le varie imbarcazioni, i vari pescherecci che insistono nell'area, quindi un quadro favoloso che tantissime città italiane e non solo italiane ci invidiano, ma anche tanto degrado, tanta incapacità amministrativa che hanno reso la zona in tante parti purtroppo abbandonata a se stessa. Vedete, qui c'era una struttura che doveva essere originariamente dedicata all'ormeggio delle canoe, una struttura creata per le canoe. Parliamo forse di una struttura realizzata all'epoca dell'amministrazione di Bello, ma dopodiché forse appena inaugurata è stata, ripeto, abbandonata ed è precipitata nel degrado più assoluto fino a diventare un relitto, un vero e proprio relitto. Bene, anzi male, in quattro anni e mezzo di amministrazione Melucci, questa persona, Rinaldo Melucci, che dice di aver seminato la rinascita, dico in quattro anni e mezzo, non è stato capace di fare nulla rispetto a questa struttura. Ma pensate un po' come può parlare Melucci di aver rilanciato il turismo quando un'opera che si poteva tranquillamente ricostruire, riattare, è stata dimenticata, è caduta nell'oblio più assoluto. E tu Melucci dici di essere stato il sindaco che ha seminato la rinascita. Questa è la rinascita che ha seminato, questo è il degrado. Gira l'Italia, impara come si amministra una città, impara, vai da chi fa turismo. Vedete i borghi antichi, il cuore pulsante di tante città italiane che vengono questi borghi valorizzati. Qui invece c'è il degrado più assoluto. Ma evidentemente noi abbiamo avuto uomini, assessori non all'altezza della situazione, perché la risorsa mare non può essere schiaffeggiata in questo modo. Io personalmente da sindaco nominerò come assessore l'avvocato Gianluca La Terza, assessore al marketing territoriale e al turismo. Parliamo di un espertissimo del settore, una persona che per anni è stata direttore commerciale di TripAdvisor per il Sud Europa. Certamente l'esperienza di Gianluca sarà tale da far rifiorire queste zone, ma stendiamo davvero un velo pietoso sull'amministrazione Melucci. Una palude, come qui guardate, c'è questa zona di quasi palustre, passatemi l'espressione, ma qui ovviamente è un fatto naturale. Qui abbiamo invece la palude amministrativa targata Rinaldo Melucci. C'è un'altra Taranto, una Taranto diversa che da giugno costruiremo insieme e faremo risplendere.